La loro casa Sarà un nuovo A giocare con l'ordine Mentre la sessione Il Signore che ora si sapevano Guardate la sua assietta Guardate la sua assietta Guardate la sua assietta Perché non dite la casa della base Urgara nu Body Guardate la sua assietta Guardate la sua assietta Guardate F 이런BOB Guardate la sua assietta Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti